Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la Voce delle Istituzioni. Questa sera parliamo di Serenda e Grappa con il Sindaco Dario Scopel. Buonasera a tutti. Buonasera, quest'anno è stato un anno un po' impegnativo per le amministrazioni locali, per una serie di ragioni che ben conosciamo, però voi siete andati avanti comunque con la programmazione di alcuni interventi. Facciamo quindi un po' una rassegna partendo magari dai lavori post-VAIA, cioè ci sono ancora delle cose da fare e le state facendo. Sì, assolutamente sì. VAIA anche nel nostro territorio ha causato diversi problemi e in questo momento abbiamo appaltato due interventi finanziati appunto con fondi VAIA che da un lato uno va a sistemare una strada silvopastorale che porta anche a cede diciamo alle sorgenti dell'acquedotto e questo per un importo di circa 200 mila euro ed un altro intervento di circa altri 200 mila euro che va a sistemare una situazione che crea e che si è creata diciamo anche con VAIA nel capoluogo, ossia a Serenda e Grappa. Qui praticamente delle acque sono andate a creare problemi a delle abitazioni quindi nella zona residenziale e si andrà a risolvere questo problema attraverso una nuova conduttura che va a raccogliere queste acque bianche in maniera tale da far sì che l'abitato diciamo non vada in difficoltà. Questi sono i due interventi che stiamo facendo con i fondi VAIA e oltre a questo ci sarebbero altri interventi da realizzare infatti all'interno delle schede di ricognizioni danni di VAIA abbiamo già evidenziato altre tematiche da sistemare soprattutto queste però all'interno della Valle di Seren dove purtroppo sia anche per la questione morfologica le piogge luvionali creano e hanno creato con VAIA danni importanti soprattutto sulla viabilità. Stiamo parlando anche in questo caso di altre strade silvopastorali o sono danni anche di altro tipo? No, in questo caso da un lato sia su strada comunale pubblica quindi che porta agli abitati all'interno della Valle di Seren sia anche sulle strade silvopastorali che sono state lesionate sia dalle piogge di VAIA ma poi anche dai cantieri di VAIA dai cantieri degli sboschi di VAIA dove ancora oggi ci sono vari cantieri per andare a sportare il legname che è stato scantato ma naturalmente tutto questo lavoro porta anche naturalmente ad una sofferenza delle strade che avranno bisogno nel prossimo futuro di essere sistemate speriamo che anche su questo si possa intercettare fondi di questo genere perché sono assolutamente importanti queste strade per la gestione forestale e senza fondi extra sarebbe davvero difficile perché tutto quello che si recupera con gli schianti di VAIA non riesce come dire a andare a controbilanciare quelli che saranno le spese per sistemare la viabilità perché purtroppo il valore del legname è molto basso e praticamente il comune di Seren ha perso in termini di valore di legname circa 500 mila euro di valore di legname e le strade avranno bisogno di circa altri 500 mila euro per essere sistemate E poi ci sono anche altre strade che andrete a sistemare però qui siamo già sul piano asfalti Sì, dopo abbiamo fatto anche nel corso dell'estate un piano asfalti di circa 100 mila euro lo scorso anno ne abbiamo fatto un altro da 200 mila, quest'anno uno un po' più piccolo ma cerchiamo di metterci comunque ogni anno un po' di impegno per cercare di mantenere costante l'attenzione sulle sedi stradali 100 mila euro che andranno a dividersi su alcuni interventi nelle varie frazioni perché c'è necessità comunque dovunque l'asfalto diciamo si usura dappertutto e questo è un altro intervento a cui teniamo molto Oltre a questi abbiamo in questo momento altri due interventi che sono uno è già partito e l'altro partirà a breve quindi il primo che è già partito è l'adeguamento sismico del plesso scolastico di Rasai un intervento importante, tra l'altro in questo caso siamo riusciti a finanziarlo al 100% con fondi ministeriali circa 650 mila euro lavori che termineranno nella prossima estate l'altro invece è il rifacimento del campo a tennis campo a tennis che ha circa 30 anni che aveva assolutamente bisogno di essere preso per mano e in questo caso abbiamo utilizzato un finanziamento che è arrivato dalla provincia e un intervento di circa 60 mila euro contratto fatto in questi giorni, lavori che partiranno a seconda anche della stagione insomma o quest'anno o comunque massimo con la bella stagione in primavera e quindi l'intervento sarà certamente ultimato per la prossima estate Quindi per il campo a tennis è un rifacimento di che cosa? Del fondo? Per il campo a tennis lo riprendiamo totalmente in mano quindi rifacciamo il fondo ma rifacciamo anche tutta la parte dell'illuminazione e anche del perimetro quindi delle recinzioni E per quanto riguarda invece c'è un altro progetto invece questo è un po' più di ampio respiro è un progetto che servirà sicuramente anche per far apprezzare meglio il territorio un progetto un po' più immateriale che quello della candidatura a riserva della biosfera Sì, questo è un progetto importante che dà modo soprattutto di crescere come territorio sia dal punto di vista delle amministrazioni ma anche dal punto di vista di quella che è la società civile è un'idea partita dai cugini trevisiani dall'IPA di Asolo che ha lanciato l'idea e che nell'arco degli ultimi due anni ha visto numerosi riunioni sia da parte delle amministrazioni ma anche riunioni che hanno coinvolto cittadini, imprese esperti della parte turistica questo perché essere riserva MAB dell'UNESCO essere riserva di biosfera non vuol dire soltanto avere una valenza ambientale ma anche soprattutto un metodo che ci si dà per cercare di valorizzare quello che il territorio ha credo che ormai tutti siamo consci che la più grande risorsa che abbiamo come territorio bellunese sia il nostro stesso territorio che ha ampi margini di sviluppo soprattutto per quello che concerne l'attività turistica ma anche il recupero di quella che è l'agricoltura di montagna l'essere riusciti a capirlo insieme l'essere riuscito a mettere insieme 25 comuni e capire che per valorizzare un territorio come il Massiccio e il Grappa serve lavorare insieme con politiche condivise soprattutto con una programmazione condivisa credo che questo sia un passo in avanti ma naturalmente non siamo arrivati a nessuna parte è un passo non decisivo ma importante per riuscire a valorizzare il Massiccio e il Grappa credo che se continueremo di questo passo effettivamente riusciremo ad avere importanti risultati oltre a questo proprio per il fatto che abbiamo iniziato a lavorare insieme sempre 25 comuni del Massiccio e il Grappa hanno anche preparato una candidatura su un progetto europeo un progetto LIFE per ottenere finanziamenti che vadano a concentrarsi soprattutto sui problemi del territorio del Massiccio e del Grappa e quindi in particolar modo su quelli idrogeologici è un progetto da circa 6 milioni di euro di cui il 55% se la candidatura del finanziamento viene accettata verrebbero dati appunto dall'Unione Europea credo che lavorare insieme possa portare risultati e soprattutto nel futuro bisognerà lavorare insieme non fondersi, io sono sempre stato molto chiaro su questo ma lavorare insieme invece è il mezzo che può portarci risultati positivi ma il perimetro di questa riserva di biosfera coinvolgerebbe l'intero comune o solo una parte? il perimetro della riserva di biosfera coinvolge l'intero comune coinvolge tutti i 25 comuni che sono diciamo attorno alla cintura del Grappa e inoltre è stato aggiunto anche Pelavena come fattore importante perché ci collega anche guardando verso il parco delle dolomiti bellunesi proprio per questo noi siamo una provincia che abbiamo da un lato le dolomiti patrimonio unesco, abbiamo il parco nazionale delle dolomiti bellunesi credo che avere anche il massiccio del Grappa come riconosciuto come riserva di biosfera dia davvero al nostro territorio provinciale tutte le carte in regola per guardare con positività al prossimo futuro dovremo però certamente continuare a saper lavorare insieme ma la riserva di biosfera comporterebbe anche nuove regole di comportamento? assolutamente no, la riserva di biosfera vuole in realtà valorizzare il territorio senza aggiungere nuovi elementi diciamo né di enti perché non si crea un ente ma viene invece creato un metodo di lavoro condiviso e soprattutto non vengono create nuove regole diciamo che vadano a limitare l'utilizzo del territorio, anzi ci sono già delle regole che sono poi le regole europee la rete natura, le SIC, la ZPS e si vuole da un lato valorizzare il territorio e dall'altro cercare di fare in modo che attraverso anche questi limiti possano diventare in realtà dei valori ok quindi niente lacci ma semplicemente diciamo una leva per fare assolutamente sì, su questo sono molto chiaro e rimaniamo sul Grappa, c'è tutta la questione dell'ex base da demolire ecco anche questo è un tema sul quale non mi stanco mai di riportare l'attenzione perché ormai da 7 anni sono stati stanziati circa 6 milioni di euro di cui 4 dallo Stato e 2 dalla Regione Veneto circa insomma e però i lavori non sono mai partiti i lavori che dovevano essere in realtà completati per il 2018 cioè la fine del centenario della Grande Guerra e in realtà siamo ancora purtroppo in parte distanti dall'inizio dei lavori e per questo quindi richiamo sempre l'attenzione affinché sappiamo bene in Italia che magari se ci si dimentica poi magari i fondi in qualche maniera vengono distratti e messi da altre parti anche ultimamente attraverso l'onorevole Tondo ex Presidente della Regione Friuli che è all'interno della Commissione Difesa è stata riportata l'attenzione all'interno del Parlamento all'interno del Question Time proprio per fare in modo che non si perda di vista questo intervento il problema vero qual è? che questi fondi, questo progetto sono legati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ogni volta che cade un governo questa struttura di missione che organizza il progetto e porta avanti gli addempimenti viene azzerata e ci vagliano circa 6-8 mesi prima che sia di nuova operativa nell'arco degli ultimi 4-5 anni più o meno ogni anno è saltato un governo per cui i tempi si sono allungati abbattere proprio la base Nato ex base Nato è oggi un rudere è dal mio punto di vista importante sia per rispetto al Sacrario che è appena alle spalle e anche per la riserva della Biosfera che parla proprio di valenza ambientale oltre che storica e avere in mezzo alla visuale a quel balcone che c'è sulle Dolomiti ma non solo perché lì si vede da est a ovest tutta la catena montuosa delle Alpi praticamente è assolutamente un elemento da eliminare sono state date risposte non soddisfacenti ma comunque che fanno capire che c'è l'attenzione sul tema io non mi stanco di tenere alta l'attenzione anzi ho anche chiesto pubblicamente sul giornale che ci sia magari anche l'intervento del Presidente Luca Zaglia perché a mio avviso il Monte Grappa non è un tema del Bellunese del Trevigiano o del Vicentino è un elemento importante di rilievo regionale oltre che nazionale per cui bisogna assolutamente fare in modo che questi lavori sia di abbattimento della crisi base Nato ma anche di restauro conservativo del Sacrario partano al più presto anche perché non è solo una questione estetica cioè in effetti impiede un edificio che... è fattiscente e anche pericoloso per cui insomma stiamo parlando di una struttura che è inutilizzata da ormai 40 anni ecco torniamo un attimo indietro torniamo al post Vaia lì abbiamo detto c'è stato un grosso problema poi anche nei boschi eccetera attualmente quando ci sono le grosse alerte meteo quali sono i punti che osservate con più attenzione? cioè quali sono quelli che ancora vi danno qualche preoccupazione? anche nell'ultima alerta meteo abbiamo chiuso la strada che diciamo sale dalla valle di Seren e arriva alla conca delle Bocchette perché soprattutto nell'area diciamo Codecuc-Valpore-Bocchette c'è il punto dove c'è stato il maggior concentramento diciamo di danni dovuti a schianti e dove ogni volta che ci sono diciamo dei precipitazioni importanti o comunque raffiche di vento importanti ancora degli alberi cadono quindi possono creare problemi alla strada infatti noi avevamo chiuso la strada e alcuni alberi sono proprio caduti sulla strada e fortunatamente la strada era chiusa per cui lì oltre ai lavori che stiamo facendo di esbosco degli schianti che sono lavori difficili anche pericolosi e purtroppo su questo abbiamo avuto una vittima proprio nel nostro territorio Seren del Grappa Luciano Scariot che ricordo e che alcuni giorni fa è stato ricordato il primo anno dalla perdita di Luciano che è morto proprio in un cantiere vaia in valle di Seren abbiamo chiesto alla regione su una delle schede per i danni la possibilità di avere anche una barriera paramassi lungo questo tratto di strada sia per il fatto che gli schianti hanno provocato quindi il problema delle ceppaie che tutte non possono essere spostate ma che possono con il tempo però scivolare verso la strada e dall'altro anche il fatto che proprio questo movimento di ceppaie abbia anche mosso il terreno e quindi si possono creare dei problemi anche di caduta massi crediamo che sia importante riuscire a fare questa barriera paramassi perché quella è una strada importante dal punto di vista turistico per il nostro territorio sale dalla valle di Seren va verso la strada provinciale che si congiunge al forcelletto abbiamo il nostro centro didattico proprio in quelle vicinanze là e non possiamo permetterci di pensare di chiudere questa strada per cui spero davvero che nei prossimi fondi vaia possa arrivare anche risposta rispetto a questa problematica noi abbiamo avuto circa 10.000 metri cubi se non di più di schianti ripeto è un valore che per noi vuol dire di perdita di circa 500.000 euro di valore in questo momento qua ma che si ripercuote poi anche nel riuscire a creare i bilanci nei prossimi anni perché per noi riuscire ad avere una entrata dalla vendita di legname era anche un modo per riuscire a mantenere costantemente il più basso possibile la pressione tariffaria e tributaria sui cittadini speriamo di riuscire di riuscire comunque a farcela certamente però il problema vaia ci ha creato un problema non da poco se guardiamo al bilancio insomma se guardiamo i prossimi bilanci futuri e con questo argomento si esaurisce il tempo a nostra disposizione purtroppo quindi dobbiamo salutare e ringraziare ovviamente il sindaco Scopè grazie mille a voi buona serata e buona continuazione grazie mille a voi